Per settori del reddito di cittadinanza da impiegare in servizio a beneficio della comunità e quanto si evince da una delibera della Giunta Municipale di Milazzo con la quale viene approvato il progetto denominato Custodia, Pulizia e Manutenzione e Cura delle Strutture Comunali rivolto a 20 persone. 10 di loro sono state individuate nell'ambito del progetto PON Inclusione e 10 dal Centro per l'Impiego. Il Comune sosterrà soltanto le spese di assicurazione, formazione e fornitura dei materiali poco meno di 6.000 euro. I per settori del reddito di cittadinanza saranno utilizzati per 8 ore settimanali o previo consenso fino a un massimo di 16 ore. Saranno affiancati da personale comunale. Il progetto durerà 12 mesi e prevede lo svolgimento di piccoli lavori manuali da realizzare a supporto di attività di pulizia e manutenzione degli spazi aperti e chiusi della città, quali il Palazzo Municipale, gli asili nido, le scuole e gli edifici di competenza comunale. L'assessore Simone Magistri ha definito i PUC come un modo di dare dignità ai percettori del reddito di cittadinanza, facendoli sentire utili alla collettività e parte del sistema economico e produttivo. Insomma, una risorsa, un valore aggiunto che aumenta la qualità dei servizi offerti e la sensibilizzazione dei cittadini al rispetto e alla tutela dei luoghi pubblici.